un cucciolo di percetere come si fa la cioccolata io ho fatto una cacca e la mia cioccolata e si fa il calcone un cucciolo di 2 caccao di 1 caccao abbiamo fatto un ottimo di pagao e ci fanno qui e ci fanno qua l'uomo dopo ci fanno un po' di mangiare e si fanno un po' di mangiare e si fanno tutto come fa più tempo perché è una bella per fare il tiglumi e sbattere tutto quanto per fare un po' a un peggiamino di misto facendo un po' il fornello per sbattere bene bene o se no, senza un microonde faccio mettere tutto il tiglio tutto bello lato per fare tutto quanto e dentro e faccio sbattere molto molto c'è la funzione a una falla per riuscire da qui e vi dobbiamo riuscire al forno questo è tutto un bacio al prossimo video